Per le relative formalità rivolgersi al seguente numero 00499 o repasti. E poi da questa luce parte l'atmosfera, si incomincia a sentire questa voce narrante che è il rumor, il sussurrio del paese. Il gazzettino di Fai da te dell'ottobre 2007 riportava già da alcuni giorni l'annuncio che Riccardo, il titolare della farmacia nella piazza principale del paese, aveva fatto pubblicare non nascondendo le sue preoccupazioni dovute al brusco calo degli incassi. La sua farmacia, insomma, da un po' di tempo soffriva. Avete notato questo termine? La farmacia che in genere deve fornire i rimedi soffriva. La verità è che tutto era andato bene fino a qualche anno prima, finché senza un apparente motivo il suo esercizio non era più stato all'altezza dei vecchi tempi. Ma non fu difficile per Riccardo intuire la causa della banca rotta così avviava la sua farmacia che ormai pensava di vendere. I soldi non gli mancavano e non aveva eredi. Il suo unico cruccio era affettivo perché quella farmacia era passata di padre in figlio da ben tre generazioni. Ma ora erano cambiate tante cose, ad iniziare dalla constatazione che la maggior parte delle donne del paese di fai-da-te si rivolgeva all'altra farmacia, nel punto opposto del paese, la cui fortuna era iniziata con l'assunzione di una professionista 32enne di accattivante presenza. discreta, sensibile, gentile, disponibile, paziente, praticamente dotata di tutte le qualità, tranne che per il sesso, richieste dall'annuncio fatto pubblicare da Riccardo. E qui un altro tocco. Il farmacista, bello, io poi sotto sotto ho capito, come diceva Fina, sotto l'ordito, ho capito di quale paese stai parlando. No, stavo parlando di Venosa. E poi sopra pensare a male, no. Ma di Venosa su due farmacisti, uno dei due farmacisti è così, uno è donna. Allora, dice Riccardo, al contrario all'annuncio, basso di statura, tarchiato, rubizzo in volto, quasi privo di capelli a soli 48 anni, ammetteva di essere il primo responsabile delle sue sfortune, poiché era solito protestare, la natura non l'aveva favorito. Anche l'occhio volò la sua parte, ma qualcosa comunque non quadrava. In farmacia non si dovrebbe andare solo per comprare i farmaci senza badare all'altro. E se così non fosse, in tutti gli esercizi commerciali, avrebbero dovuto lavorare solo persone di bell'aspetto. E la professionalità? E che differenza fa se nella farmacia chi ti pone in mano il farmaco richiesto, sia uomo o donna, bello o brutto, longilini o obeso? E poi, l'aspetto davvero inspiegabile della faccenda era che delle donne si rivolgessero ad un'altra donna. Questa è una trasgressione... Quindi vedete come l'umorismo sottile si incunea nelle descrizioni. Sarebbe stato più logico il contrario considerando i tempi attuali. Il novello di Riccardo era ormai preoccupante, si era dato con foga delegante ad indagini di tipo sociologico e statistico e si era recato dall'ufficio dell'anarchia del comune dove aveva appreso che ben 4.902 degli abitanti erano di sesso femminile e i rimanenti, 3.987, erano maschi. Perciò gli ritornava in mente sempre la stessa osservazione, cioè ma che cosa provassero tutte quelle donne a rivolgersi ad una sia pur bella farmacista? È vero che per quello che riguarda strettamente il sesso era in auge una sorta di rivoluzione, ma si poteva mai pensare che i costumi sessuali fossero cambiati a tal punto che le donne preferissero quelle del loro stesso sesso? E così, sinceramente turbato per questo probabile cambiamento di gusti, ma volendo sfidare fino in fondo le nuove tendenze, una sera si confidò con uno dei suoi fedelissimi della sua farmacia proprio il giorno prima di pubblicare il famoso annuncio sul giornale. Ora ti faccio vedere io, diceva lui, faccio vedere io come cambio i gusti di quelle donnacce, ti metto qui dentro un bell'uomo come dico io, poi vediamo se non si svegliano e non ritornano alle vecchie abitudini. D'altronde... Un altro esempio rafforzava questa sua convinzione facendogli ben sperare, sembrava che anche la parrocchia fosse frequentata da un... non meno gente del solito a differenza dell'altra parrocchia dove era appena giunto l'avvenente parroco e affrotte giovani donne vecchie perpetue si erano recate proprio lì. E questo mi sembra una citazione di Aristofane, faccio citazione drammaturgica, un senso che noi abbiamo cominciato con le donne a Parlamento, donne a Parlamento del 77, e ricordi poi quando per questo facevo riferimento a Venosa, il nostro primo lavoro è stato quello, la prima esperienza, il primo impatto, poi abbiamo fatto una mini tournée a Venosa, ed è finita lì, e facevamo una prevenzione, perché essendo degli illustri sconosciuti andavamo in giro per le strade del paese vendendo i biglietti e quindi annunciavamo, diceva ma di cosa si tratta? Diceva, no, donne a Parlamento, e dopo di che qualcuno diceva ma perché siete radicali? La conoscenza... Allora, donne a Parlamento, in cui anche lì c'era una rivolta femminile, le donne non contente della politica maschile, ad un certo punto si travestono da uomini, conquistano l'assemblea, fanno votare una legge che a loro parere era democratica, ma era una legge di tipo sessuale, per cui bisognava dare giustizia a tutte quante le donne, tutti avevano diritto agli stessi piaceri sessuali, con precedenza assoluta, delle donne vecchie e di quelle brutte, e quindi anche qua c'è qualcosa di simile. Ma diciamo, questo rovere lo tormenta, perché pure nella parrocchia accadeva la stessa cosa, e poi lui dice, ma continuava Riccardo, ma la chiesa è come una farmacia, qui si regano solitamente persone bisognose di medicinali e di altri articoli sanitari, mentre in chiesa si rega chi ha bisogno magari di un conforto religioso o di ascoltare una messa. Chi vuole comprare il formaggio si rivolge altrove. Riccardo nutriva una vera e propria indignazione verso gli apostati. E come si poteva antiporre la salvezza dell'anima a un volgare appagamento estetico? Cioè, per essere più chiari, se tutti andassero in chiesa ad ammirare il parroco, che sarà pure di bella presenza, e non ci sarebbe più religione. Quindi va avanti con queste lucubrazioni, fin quando poi trova la soluzione pubblica, io accelgo perché capisco che poi ci sarà qualche altro intervento, ma mi piace leggervi un pochettino le confessioni del sindaco ad Alessio. Da un certo punto, siccome le donne hanno la prerogativa ormai di essere più disnibiti rispetto agli uomini, a lei prendere l'iniziativa, quando era bello il tempo nostro, quando noi no, ognuno va fatto solo, debita a distanza. Inizia lei in questo colloquio, a casa, un po' di ascrizione poi meticolosa, e non ve l'anticipo, per non privarvi del piacere poi di gustarlo. Caro dottore, dice lei, lei non sa quanto io sia contenta di trovarmi qui in incognito, ed è una delle rarissime occasioni in cui mi sento finalmente libera. A fai da te non posso muovermi senza dare spiegazioni, soprattutto da quando sono entrata in politica. Tutti mi osservano, mi seguono addirittura, pronti a colpirmi al primo passo falso, ed ora, anche quando entro nella farmacia dove lavora lei, devo essere pronta a trovare una giustificazione. Ma, nei piccoli paesi è così, ma se noi dovessimo dar conto di tutto quello che facciamo, in questo breve percorso terreno, la vita sarebbe davvero poca cosa. Io ho preferito allontanarmi dal mio paese, soprattutto per questo motivo. Non facevo il sindaco in quel posto, ma non ne potevo più di essere praticamente assediato da nugoli di baccanti. Anche a casa venivano ad infastidirmi. Alcune volte, per farsi ricevere, inventavano le scuse più strane. Inoltre, ogni due o tre mesi, ero costretto a cambiare il numero del cellulare. Ma non mi dice niente di nuovo. Anch'io ho dovuto fronteggiare diversi assalti finché mi sono addirittura sposata, pensando di mettere fine a certi pattegolezzi. Ma che? I corteggiatori aumentavano. Anch'io sono solo una donna. Senza volerlo, mi sono spesso trovata in situazioni scabrose. A parte mio marito Vincenzo, l'unico uomo che io abbia veramente amato, e sono stato costretto ad avere a che fare con Nicola, un medico che lavorava all'ospedale del paese vicino. Ma sì, poi con Salvatore, Salvatore è un ingegnere, poi con Aldo, un insegnante di russo, poi con Ilario, sì, 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 un impiegato della nostra banca. Ed infine con Carmine, un semplice idraulico, che ho appena lasciato. ma prima di farsi una cattiva idea di me, provi a chiedere come mai sia potuto accadere tutto questo? Cioè, come mai sia stato possibile per me frequentare tanti uomini, tutto sommato, in un breve arco di tempo? Ah, è la vita con la sua imprescrutabile logica. Comunque, non mi spiego il perché, mi trovo così bene con lei, anzi, ne sto forse approfittando per scaricarmi. E con Vincenzo, il vero amore, anche se per lui si è trovato un'altra, se poi lui si è trovato un'altra, e proprio nel periodo in cui partecipava al concorso di Miss Italia, io ero lì e lui qui si divertiva con la sua amichetta. Proprio in quel periodo ho avuto bisogno del medico, Nicola, di cui credevo di essermi innamorata. Era uno psichiatra e a suo modo mi dava un certo conforto. Eh, ma poi, poi ho conosciuto Salvatore, l'ingegnere che stava facendo il progetto della mia nuova casa. E per ogni piccolissima variazione veniva a trovarmi, finché abbiamo finito per incontrarci ogni giorno. E così, finché all'ultimo abbiamo finito ogni giorno. E peraltro, anzi, Aldo invece era il mio insegnante di russo dal quale mi ricavo bisettimanalmente in vista di un viaggio di lavoro a Mosca. Avevo studiato all'università solo la lingua francese, tedesca ed inglese e parlavo discretamente anche lo spagnolo che aveva imparato con l'aiuto di un'amica originaria di Madrid e non potevo rischiare di trovarmi in un posto senza conoscere almeno qualche espressione, qualche parola che potesse farmi comunicare con gli altri. E poi, sono sempre una lavorata in lingue, avrei dovuto provvedere da sola ad imparare il russo, non fosse altro che per non farmi sfuggire qualche buona occasione per lavorare. perciò, perciò quando conò Bialdo fui particolarmente felice di imparare anche quell'altra lingua. Anche lui era un uomo dal fascino intrigante e conosceva bene il suo mestiere perché ogni 3-4 mesi si legava in Russia a perfezionare la lingua e così una lezione oggi ed un'altra domani e spesso la moglie non era in casa e... Ah, Ilario invece l'ho conosciuto in banca dove mi legai per chiedere un prestito per la villetta che avevo deciso di comprare tra un preventivo e l'altro. Ah, infine una volta andato ad abitare nella casa che tanto sognavo avevo spesso bisogno dell'idraulico ed ho conosciuto Carmi il resto è facile da immaginare e qualche volta mentre aggiustavo i rubinetti e li passavo davanti mi mangiava con gli occhi e un giorno mentre stavo caricando la lavatrice non mi ero neppure accorto della sua presenza me lo sono trovato addosso con tutti i suoi muscolacci e restate e mi aveva chiesto il permesso di lavorare solo con la canottiera addosso io indossavo un vestitino bianco e forse un po' un po' accattivante e come si vede si è trattato sempre di incontri occasionali. Questo era lo spirito e volevo concludere se mi portate un po' fuori dalle linee per associazione io ricordo qualche cosa che raccontavo spesso in uno dei miei spettacoli dialettali che è partito con Cafone a Basilicata che parla dalle nostre radici sotto la metafora di questo Cafone e quindi immaginavo partendo dall'origine chi mai avesse potuto creare questo Cafone e allora c'era ci sono molti reperti orali che circolano nella nostra zona io come dire saccheggiato un po' intorno e ho immaginato che il Padre Terreno il settimo giorno non è un riferimento irreverente adesso a Berini ma il settimo giorno invece di riposarsi il Padre Terreno ha visto questa terra così bella così lussureggiante così verde e ha dovuto fare il primo straordinario della storia poi veniva a creare un Cafone quindi l'ha impastato con la prima volta poi c'è tutta la vicissitudine esistenziale e alla fine emica anche in America e muore però siccome la morte era simbolica non potevano far morire le nostre radici si reincarna nel blues nella musica blues americana per cui c'è il dialetto rionerese cantato su ritmi in blues americano il titolo del blues è Tis Blues o Blues Tis perché è auto reverse allora si raccontava quando già nell'immediato dopo guerra quando questo paese aveva come strade lastricate non c'era l'asfalto soltanto via Umberto I l'ha sceso la posta che andava verso la piazza le donne avevano come dire una fisionamia una tipologia tipicamente come dire sudista sudice come dicono i nostri dice no c'è un bambostad no come si dice come si dicevano i nostri compitta a mignaletta e un bulan bassapane questa è la cosa no era proprio la conformazione fisica che era così non è e bella baffuta no sì perché bella donna baffuta sempre piaciuta certa amostanza perché noi siamo vissuti con una difficoltà di identificazione psicologica che tu tra si oi ma quando avuto da giro che so attate mi tengo la mano ma mi tengo amostanza questo paese in cui il condominio era era popolato non solo da qui si dice anima per bigliet che si veniva qua sotto un sacco o delle trature anche dalle bestie degli animali no le ciocce le gazzine quando si incontrava una città hai fatto il burco con me e dici no io lo tengo da che mi sono accasato e non lo fai ro mi sono tolito allora in questo paese macchine non ce ne erano per la prima volta venne una donna del nord perché soffriva di asma respirato in montagna il volto la zona pulita non era inquinata e allora questa arriva e per la prima volta in questo paese in cui le donne avevano quel tipo di fisionomia quell'abbigliamento qui ho trascurato la descrizione l'abbigliamento arriva sta donna che portava la gonna al di sotto del ginocchio quando noi riferivano i nostri non sapevano mai quando la gamma tenevano qualcuno ci ha spiavo lavato il per un po' quando mi aveva la fogata di lavare i pan si è sollevata oh oh te ne dici e poi c'è il massimo della libido era quella allora a un certo punto arriva questa qua questa gonna leggermente al di sotto del ginocchio con i cavizzetti per me mai vista sto paese i cavizzetti fatti di fiori di pur la vana vergine caguante mattia o quelli cavizzetti o la maglia con l'anno ci grattano i betti i muri come sta non c'è una cosa terribile e allora poi non solo ma poi teneva quel righino nero che partiva dal tallone fin da ai fessi in due arie come è nel paese maronna mia come vuol essere finito volendo finire immaginate questo cagamare questo paese con un taglierino attillatissimo ancheggiante il fello nostro portava la scatola con la cartaccia sotto vanno scendendo fuori che è sceso la posta arrivano direttamente questa qua invece con un tacco alto come immaginare attillato con pettinatura profumata quando passava con la vita poi si era ruotato il tuo paese anche java secondo me lo perdo prima ruotato si è formata una processione questa scendeva in piazza portava al guinzaglio un cagnolino un yorkshire che aveva un cappottino aderente aderente all'orlo al testuto del segnale della padrona per fare un po' con la marrona pure i cani capisci lo cani che porta chi è e dove porta lo cani l'accompagnano fino in piazza e poi veniva la frutta c'era un contadino che era appena arrivato dalla campagna e aveva il muro alla fontana di grano tanto si chiamava grano perché era grano ma quando l'aveva per il fa che si è testato e nel frattempo aveva messo a disposizione la verdura bella fresca l'odore di erba bagnata dalla rugiada la terra intresa d'acqua era un piacere sentire quel profondo si avvicina doveva fare un po' di spesa il cagnolino chi era poi il retorino nordico non è che sapevo l'abito di invocarle ha incominciato a girare intorno a Stucrostia hanno usato l'erba a un certo punto ha alzato la zampina e ha innaffiato il crociano che aveva i mastizzi sono ruotati ho capito la parrocco la mano come l'ha guardata lui oddio oddio Fuffi Fuffi ma cosa hai fatto ma sai che non ci fanno queste cose qui chiedi scusa signore ma perché parola la parola chiedi scusa signore perché non ci fanno queste cose no signore per l'amore di Dio quell'animale che non capisce grava se avrebbe ostacolo se mi avessi capisciato voi ma ne scappano la tua tua madre ma quello che non sa lo puoi mettere pure in terra poi un po' la sacca un po' grappano un frusto viene qua un animo gentile non l'avevi mai immaginato tanta bricadezza il corpo così robusto oddio un momento signore un momento io ancora ho già capito che non la voce non ho già stare lontano a stampare in cusa da ricordare fino a qua una canna grazie